Rizzone, sguardo in alto dove c'è Carvernaz, troppo lontana, e ancora Pavan, gioco, le salta tre, poi quattro, prova anche la conclusione! Matilde Pavan, fa tutto lei, le supera quattro! Pavan, contrastata da tre, tiro sotto la traversa del Parma, Bren, ancora una volta, legge la diagonale, poi perde il pallone. Azione pericolosa per il Parma, il pallone è in mezzo, c'è la deviazione! E la rete! Il pareggio del Parma, al diciottesimo minuto! Qui il recupero palla, filtrante, perfetto per Silvioni. Il numero 23, ma intanto seguiamo il calcio di rigore, parte Rizzone! Sotto il set! Rizzone, porta il como sul 2-1! Non può nulla, Capelletti in questo campo. Attenzione, c'è un cartellino rosso! Contro... C'è lo spazio per Kubassova, perde troppo tempo, infatti il pallone va dall'altro lato. Pastrange, allarga per Greta Di Ruzio! In mezzo, dove c'è Kubassova! 3-1! Secondo gol in campionato per la Kubassova, il primo realizzato contro Sassuolo. Rivediamo, Carlo Arnassi lancia benissimo. Pepa Strange, allarga su Di Ruzio. Sguardo in mezzo, è arrivato puntuale. Mette in mezzo, pallone ottimo, Bail, il tiro! 4-1! E' anche un miracolo. Bail che lascia Pirone. Prova a entrare in area di rigore, disturbata, calcio di rigore! Calcio di rigore! Se colpisce il piede proprio nel momento in cui si trova dentro l'area di rigore. Chiede la distanza rispetto alla linea dell'area di rigore il direttore di gara. Pirone contro Corenciova va. Il tiro e la parata di Maria Corenciova! Si aspetta solo il fischio finale. Ceccotti, pallone in avanti. Fischietto alla bocca e finisce la partita tra Como e Parma. 4-1!